Continua a far discutere in casa al Binoleffi la prestazione dei ragazzi di Madonna nella sfida di domenica contro l'Ancona. A preoccupare il mister in particolare la difesa, troppo facilmente perforabile dagli attaccanti in maglia rossa. Alta poi non in linea, a mio parere la prima sensazione è stata quella che noi ci sentivamo in obbligo di vincere la partita. Allora specialmente gli esterni stavano un pochino più alti per ripartire subito, la prima palla persa erano troppo alti, si sono trovati due centrali troppo e hanno cercato certe volte di fare un fuorigioco che era assurdo, invece bisognava scappare. E comunque era l'atteggiamento di tutta la squadra che era sbagliato, perché è vero che per noi erano determinanti questi punti, erano importanti, ma non facendo così si potevano tenere. Così siamo andati allo sbaraglio, abbiamo commesso subito degli errori e loro si sono rinfrancati, noi ci siamo un po' battuti. L'emblema di questa partita è quando abbiamo fatto il 2-1, non si può subire il 3-1 in quel modo lì, l'esterno era troppo alto dal centrale, abbiamo subito un gol facile su un cross, una squadra di fiesa schierata e questo credo sia l'emblema di questa partita. Una partita del genere non me l'aspettavo, una partita del genere ci deve far pensare, ci deve far ragionare, ci deve preoccupare, tutti si devono prendere le proprie responsabilità, io in primis, e lavorare anche su queste cose qui. Sì, perché va bene se all'albino l'Effe, va bene che nessuno magari qua ci contesta, va bene, però dobbiamo prenderci le responsabilità nei confronti di una società che adesso ha 7 anni che sta facendo i risultati, io ci tengo a non fare queste figure, non le voglio fare, anche se è logico che il primo responsabile di questa partita sono io. Grazie.